È arrivato alla sua 19esima edizione il Festival Musicale Internazionale all'interno di Casa Bruschi 6 i giovani talenti che saranno ospitati in questa nuova stagione. Si inizia il 23 febbraio e si chiude il 10 di maggio 6 i giovani talenti che saranno ospitati all'interno della Casa Museo. Vorrei sottolineare la giovanità di questi ragazzi perché c'è il primo, Arseni Moon ha 24 anni, Ettore Pagano addirittura 21 e Menegardi 22. Quindi si tratta veramente di giovanissimi, però dobbiamo anche capire la preparazione incredibile che hanno dovuto affrontare questi ragazzi per vincere concorsi internazionali. Cioè qui si tratta di un livello veramente altissimo dove tra l'altro, portando qui a noi ad Arezzo, anche un po' la loro esperienza internazionale. Cioè è come se portassero un po' un viaggio che hanno fatto in tutti questi anni di studio e con la loro esperienza lo portano qua in questa sala museo dove effettivamente anche l'acustica magnifica, molto vicino il pubblico, quindi si può parlare con l'artista. E penso sia un'occasione unica ad Arezzo, tra l'altro sono artisti spesso e volentieri in esclusiva nazionale da noi. È una valorizzazione di questi ragazzi incredibile che ci consente di evolvere anche l'offerta del nostro museo che è naturalmente un'offerta molto poliedrica che va dalla formazione alla stagione concertistica. Mostre che dal primo marzo saranno inaugurate come quella che staremo per fare grazie naturalmente al supporto di Intesa San Paolo con nuove opere che arricchiranno ancora una volta il nostro museo.